un caro saluto da diego fusaro era nell'ordine delle cose che saremmo presto tardi giunti a questo risultato del resto l'avevamo segnalato con zelo da anni e ora sembra che davvero sia giunto il momento di vedere quelle idee farsi realtà titola così l'ha finto in post in data 13 aprile 2021 elon musk entro l'anno i primi test con chip nel cervello umano l'azienda neuralink ha già condotto sperimentazioni sulle scimmie dice poi ancora l'haffington post entro l'anno potrebbero partire i primi test che prevedono l'impianto nel cervello umano dei chip che funzionano come interfaccia con i computer ad annunciarlo elon musk con un tweet dice ancora l'haffington post in seguito ai test fatti con la sua azienda neuralink su una scimmia qui è stato impiantato un chip che le ha permesso di giocare ai videogames con la mente alla radice dice ancora l'haffington post dell'idea del ceo della tesla e space x che ha lanciato questo progetto cinque anni fa è quella di essere sempre connessi a internet attraverso un chip impiantato nel cervello che ci permetta di comunicare solo con la forza del pensiero ecco siamo dunque arrivati davvero dove temevamo saremmo arrivati ossia appunto al chip nel cervello umano elon musk dice addirittura che entro l'anno vi saranno i primi test in questa direzione e quindi quella che sembrava un'idea difficilmente realizzabile futuristica e da fantascienza si è ora in procinto di realizzarla secondo quanto apprendiamo dall'haffington post come ricordavo che dà la notizia relativa all'avveniristico enor musk e alla sua idea di passare dalle scimmie all'uomo con l'innesto del microchip nel cervello